Allora, Mendizzi, Mantico, questo oggi però il migliore in campo è Mendizzi, allora... Parli tu, e basta! Sei placato da Mantico perché non volevi fare questa intervista, oggi il migliore in campo, una bellissima gara contro il battaglione, allora cosa ci puoi dire questa partita? Ah, è stata una bellissima partita, se mi lascia un po' stessa, ma... è stata una bellissima partita, poi abbiamo sofferto il primo tempo, avevo poi il secondo, l'abbiamo segnalato tutti, siamo di più forti, io l'ho risalto 5.000 volte, siamo di più forti, con scelma 4-4-2, è servito oggi! Senti, quindi nonostante il ritorno di Sommella, che è un poco il pinocchio di questa situazione qua, tu però continui a venire, no titolare oramai? Eh, almeno così dico, puoi sentire... Lui è il nostro ID!